KTM, richiesta di una quinta moto per mantenere i piloti attuali o per ampliare il team. In una svolta sorprendente, la KTM si trova ad affrontare una situazione che potrebbe lasciare alcuni dei suoi piloti attuali senza sella. Nonostante l'impegno preso con Pedro Acosta, che sarà promosso in MotoGP a partire dal 2 Mia24, il rifiuto del promotore di assegnare alla casa austriaca i posti lasciati liberi dalla Suzuki alla fine della scorsa stagione, ha creato una situazione complicata. Come riportato da Motorsport Dot con prima del Gran Premio d'Olanda della MotoGP, Acosta ha deciso di esercitare l'opzione prevista nel suo contratto e gareggiare nella classe regina nella prossima stagione. Il giovane prodigio ha confermato personalmente questa notizia nel corso dello scorso fine settimana, alimentando entusiasmo e speculazioni tra i fan. Nonostante la KTM gli avesse offerto la possibilità di rimanere in Moto2 per un'altra stagione, il pilota di Mazzarron ha declinato l'opzione, costringendo l'azienda con sede a Matti Goffen a trovare un posto per lui tra i quattro prototipi che gestiscono. Le due RC16 ufficiali con i colori Red Bull e le due Gas Gas, ancora KTM ma dipinte di rosso. Sia Jack Miller che Brad Binder, il duo dinamico del team ufficiale, sono sotto contratto fino alla fine del 2024. Lo stesso vale per Paul Espargarò, la pietra angolare del progetto Gas Gas, che purtroppo ha subito un terribile incidente a Portimao, la tappa inaugurale di questa stagione. Il punto debole di tutta la struttura è Augusto Fernandes, l'unico pilota il cui contratto scade alla fine di questa stagione. Dopo aver chiuso al decimo posto ad Assen, Fernandes ha manifestato il suo disagio per il futuro a causa del silenzio della KTM. Mi piacerebbe rimanere. La KTM sta cercando di trovare un posto per tutti noi perché siamo entrambi felici. Voglio che tutto rimanga esattamente come ora per un altro anno. E non sto considerando altre opzioni, ha dichiarato Fernandes prima della pausa estiva, che definirà la griglia di partenza per il 2024. Consapevole della situazione delicata, la KTM ha presentato una richiesta ai promotori della MotoGP per avere una quinta moto nella prossima stagione. Questa moto sarebbe gestita attraverso la struttura di Aki Ayo, garantendo che nessun pilota venga lasciato indietro. Tale scenario acquisterebbe ancora maggiore importanza se Marc Marquez entrasse in gioco, nel caso in cui il pilota spagnolo decidesse di interrompere il suo rapporto con Honda alla fine della stagione in corso, per unirsi alla casa austriaca. Tuttavia, la Dorna ha respinto la richiesta della KTM, poiché i due posti lasciati liberi dal ritiro improvviso della Suzuki dalla MotoGP alla fine del 2022 sono destinati all'eventuale ingresso di un nuovo costruttore. È importante sottolineare che KTM e Gasgas operano sotto lo stesso ombrello per quanto riguarda i voti della MSMA, rendendo ancora più complessa la situazione. Il futuro della KTM e dei suoi piloti è appeso a un filo mentre le trattative e le discussioni continuano dietro le quinte. Riuscirà la KTM a ottenere risorse e opportunità aggiuntive per accogliere i talentuosi individui che hanno contribuito al loro successo? O dovranno affrontare la cruda realtà di dire addio a membri preziosi del team? Solo il tempo svelerà l'esito di questa battaglia ad alta tensione per la supremazia nella MotoGP. Fate brillare la sezione dei commenti con le vostre opinioni e previsioni mentre aspettiamo con impazienza il prossimo capitolo di questa coinvolgente saga. Restate sintonizzati.